La generazione ciclistica italiana ci presenta un nuovo diario di viaggio. Andiamo in Australia, Melbourne per i mondiali e per questo nuovo progetto. Sono da poco trascorse le ore 13.30, abbiamo quindi concluso la cronometro Under 23 a vincere uno statunitense, un grandissimo tempo Tyler Finney, forse l'atleta che un po' tutti ci aspettavamo sul gradino più alto dei podi, sicuramente era un po' uno degli uomini da tenere sott'occhio da parte dei nostri italiani, ma ovviamente non solo italiani appunto. Andiamo a raccontare com'è andata, ottima prestazione per Matteo Mammini, sesto posto per lui, buona prestazione anche di Gianluca Leonardi con una tredicesima posizione. E questo è quello che è successo in campo maschile Under 23, tra poco i risultati, mancano ancora pochissime tornate, pochissime donne e poi avremo i risultati ufficiali del Campeonato del Mondo a cronometro al Temminile. A dopo! Bricofer, da anni leader nel settore del fai da te, è il partner ideale per chiunque voglia dare forma alle proprie idee.